Dunque cominciamo a vedere il transistore bipolare. Abbiamo già anticipato che il transistore bipolare si comporta come un generatore di corrente controllato da corrente. Vediamo in dettaglio come funziona. Il transistore bipolare è essenzialmente il transistore inventato nel 48 presso i Bell Labs, quello di cui abbiamo parlato inizialmente. Originariamente il transistore inventato ai Bell Labs era in Germania. In Germania è un altro semiconduttore, un elemento del quarto gruppo, che all'inizio dell'elettronica basata sui semiconduttori era il tipo di materiale più utilizzato. Subito dopo poco fu praticamente sostituito dal silicio, che è un altro elemento del quarto gruppo della tavola periodica e attualmente è utilizzato in modo marginale. Fate conto che, come dicevo prima, il 95% dell'elettronica dei circuiti integrati è realizzata in silicio. In Germania si realizzano per lo più adesso alcune parti del transistore, in particolare si realizzano in una lega silicio e germanio per migliorare la velocità, diciamo, del componente e ci sono alcuni componenti realizzati ancora in Germania. Però ecco, adesso ormai quasi tutto basato sul silicio, con piccole introduzioni di altri materiali. In inglese, il transistore bipolare si chiama Bipolar Junction Transistor. Bipolar è letterale la traduzione, transistore bipolare a giunzione, e si indica spesso con la sigla BJT. Ovviamente anche in italiano transistore bipolare sta per transistore bipolare a giunzione, anche se spesso la giunzione si sottintende. Ecco, invece la giunzione è fondamentale, nel nome si sottintende, ma il transistore bipolare a giunzione è caratterizzato dalla presenza di due giunzioni. Definiscono il comportamento del dispositivo. In pratica, come possiamo rappresentarlo? Idealmente, noi possiamo rappresentarlo con un tassello con tre regioni drogate in modo differente. Per esempio, N, la regione centrale P, la regione più esterna N. Vedete quindi, se ci sono tre regioni drogate in modo diverse, abbiamo due giunzioni PN, tra la prima e la seconda regione, la seconda e la terza. Queste tre regioni sono associate a tre contatti differenti, tre elettrodi metallici, di quali quello centrale si indica con la lettera B e si chiama base, in inglese base, che si scrive nello stesso modo, che vuol dire base, degli altri due, uno si chiama emettitore, si indica con la lettera E, in inglese l'emettitore si dice emitter, letteralmente, e l'altro si chiama collettore, si indica con la lettera C e in inglese è il collector. Quindi noi abbiamo studiato il dio d'aggiunzione, c'è un'aggiunzione, una regione più un'aggiunzione N, qua aggiungiamo un'altra regione N, quindi aggiungiamo un'altra aggiunzione e, diciamo, apparentemente è una piccola differenza. Nella pratica il comportamento è fortemente diverso. Allora, per completezza, questo transistore bipolare si chiama transistore bipolare, quindi BJT, di tipo NPN. Questo NPN indica la sequenza delle regioni, quindi NPN, nel modo in cui ve l'ho letto. C'è un simbolo che è questo simbolo qua. Ci sono tre elettrodi, questo è il simbolo che si usa per rappresentare in un circuito il transistore bipolare aggiunzione. C'è l'elettrodo centrale, la base, il collettore e l'emettitore. C'è una freccia tra base ed emettitore che indica la direzione dell'aggiunzione PN, come il diodo, come la freccia che c'è in un diodo. Va bene? A volte si mette anche un cerchio intorno al dispositivo qui. Ora non ve lo faccio perché è scomodo, però nel simbolo si può inserire o si può non inserire, non è essenziale. Il cerchio che circonda il dispositivo è opzionale, spesso si trova. Ecco, perché c'è bisogno di sottolineare che questo è un BGT NPN? È ovvio perché? Perché esiste anche BGT di altro tipo. Anche se io faccio un tassello con tre regioni drogate in modo opposto, ottengo un transistore aggiunzione perché ovviamente ottengo le altre due aggiunzioni. Chiaramente in questo caso avrò E, B e C. I nomi sono gli stessi, soltanto che il transistore si chiama PNP. Il simbolo è differente, il simbolo è questo. Cioè è uguale al precedente tranne che la freccia tra base e mettitore è orientata in verso opposto. Poi ora il fatto che il transistore sia orientato in verso opposto è solo un disegno mio, perché chiaramente il simbolo può essere ruotato come volete. La differenza unica nel simbolo è la direzione della freccia. Perché la freccia è orientata diversamente? Perché il senso di polarizzazione diretta dell'aggiunzione base e mettitore stavolta è dall'emmettitore alla base, da P a N, come abbiamo visto per il diodo aggiunzione. D'accordo? Quindi abbiamo introdotto il dispositivo, abbiamo visto come fatto. Ora cosa c'è da capire? C'è da capire perché bisogna parlarne tanto. Cioè perché quel dispositivo si dovrebbe comportare diversamente da due diodi del tipo di quelli che abbiamo visto la settimana scorsa. Va bene? Quindi investiamo un po' di tempo in questo. Quindi vediamo un po' il funzionamento del BGT. Allora io disegno il bipolare così, soltanto la parte in basso faccio, in modo da lasciarmi un po' di spazio. Quindi emettitore, base e collettore. Ecco, per semplicità, io vi racconto il funzionamento dell'NPN, che in realtà è il tipo di bipolare più comune. Però tutto quello che dico vale anche per il PNP con le dovute differenze. D'accordo? Quindi vi ne spiego uno, ma in pratica poi alla fine vi dirò, guardate, per il PNP stesso ragionamento con questa differenza e vediamo le conclusioni. Allora, perché dico io potrei interpretare il bipolare come due diodi, perché vedete io ho, proviamo a interpretarlo come diodi. Io ho tra base ed emettitore un diodo aggiunzione PN, quindi io potrei dire, vabbè, se voglio fare il circuito corrispondente tra base ed emettitore ho un diodo, giusto? tra base e collettore ho un'altra aggiunzione PN, quindi ho un altro diodo. Quindi potrei dire, vedete, il bipolare si comporta come due diodi, come si dice in questo caso, back to back, cioè spalla a spalla, d'accordo? Orientati in direzione opposta. Va bene? Allora, in realtà non è vero. Questa cosa è importante notarla, è importante ricordare che non è vero. No. Qual è il motivo? Il motivo ve lo spiego tra un attimo, ma il motivo detto velocemente per scriverlo sul lucido, non è così perché la base è corta. Cosa vuol dire corta? Vuol dire sottile, vuol dire che lo spazio che c'è tra una aggiunzione e l'altra è molto piccolo. Perché questo cambia le cose? Perché dovete pensare a come funziona un diodo aggiunzione? L'abbiamo visto un attimo fa, la settimana scorsa. Proviamo a rivederlo in dettaglio nel caso dei bipolari. Allora, prendiamo un transistore bipolare come questo, mettiamo la base qua e adesso applichiamo una polarizzazione. Allora, per comodità facciamo così. Mettiamo la base, attenzione positiva rispetto all'emettitore, quindi polarizziamo direttamente l'aggiunzione base-emettitore. Va bene? Quindi mettiamo una VBE. VBE vuol dire tensione tra base ed emettitore maggiore di zero. Quindi l'aggiunzione base-emettitore è polarizzata direttamente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io disegno l'energia potenziale per gli elettroni, fatemela scrivere qua, energia potenziale per gli elettroni, la barriera di potenziale che vedono gli elettroni per andare da emettitore a base è ridotta, d'accordo? Perché l'aggiunzione base-emettitore è in polarizzazione diretta. Quindi faccio una piccola barriera. Va bene? Tra base e collettore, quindi piccola barriera, vuol dire che se dovessi andare a tracciare la zona di svuotamento, qui avrei una piccola zona di svuotamento tra base e emettitore. Poi facciamo così. Tra base e collettore, invece, mettiamo una tensione VBC, orientata così, negativa. Quindi polarizziamo inversamente l'aggiunzione base-collettore. Se la polarizziamo inversamente, vuol dire che avremo una zona di svuotamento ampia, quindi questo qui mi rappresenta la zona di svuotamento. E quindi quando vado a rappresentare l'energia potenziale per gli elettroni tra base e collettore, io vedo che gli elettroni che sono nel collettore vedono un'alta barriera potenziale, d'accordo? Quindi sarà fatta più o meno in questo modo. Va bene? Questa situazione si chiama polarizzazione del transistore bipolare in zona attiva diretta. Ricapitolando, in zona attiva diretta abbiamo VBE maggiore di 0, quindi giunzione BE polarizzata in diretta, giusto? E poi abbiamo VBC minore di 0, cioè giunzione base-collettore polarizzata in inversa. E fin qui niente di particolare, sto parlando delle due giunzioni come se contassero separatamente. Che cosa succede però agli elettroni? E questa è la differenza. Guardate bene, io ho tanti elettroni nell'emettitore. Gli elettroni nell'emettitore si trovano una barriera di potenziale ridotta per andare in base e quindi diffondono nella base, d'accordo? Questo è il primo passo. Diffondono nella base e riempiono la base. Ora, questa è la differenza. Attenti ora. Se avessi una giunzione Pn semplice, che cosa succederebbe? Pensate a quello che vi ho detto l'altra volta. Vi ho detto, gli elettroni diffondono nella zona P, avanzano un po' diffondendo e poi trovano un sacco di lacune e ricombinano e a un certo punto spariscono. Questo è quello che succede in una giunzione Pn normale. Qui la cosa è diversa. Perché? Perché la base è corta, cioè la regione P è molto corta. Quindi succede la seguente cosa. Gli elettroni diffondono nella zona P, vanno un po' avanti, prima che possa ricombinare, vedono quella discesa del potenziale. Quella è una forza che li spinge verso il collettore. Quindi non spariscono, non ricombinano, ma in pratica arrivano qua e poi vengono spinti dentro il collettore. Va bene? Quindi non si comportano come due giunzioni Pn separate. Se avessi due giunzioni Pn separate avrei una polarizzata in diretta in cui passa corrente e l'altra polarizzata in inversa in cui non passa corrente. Ma ora nella giunzione Pn polarizzata in inversa, quella tra base e collettore, passa un sacco di corrente perché gli elettroni arrivano dall'emettitore attraverso la base e poi vengono spinti dall'altra parte. Ok? Questa è la differenza principale. E' il motivo per cui ho una corrente tra emettitore e collettore. Ora in questo caso particolare che cosa ho? Ho un flusso di elettroni tra emettitore e collettore. Gli elettroni vengono emessi dall'emettitore e raccolti dal collettore. Questo è il motivo del nome dei due elettrodi. Quindi l'emettitore emette e collettore colleziona, raccoglie. Va bene? E chiaramente se il flusso di elettroni è in quella direzione, la corrente elettrica, poiché gli elettroni sono carichi negativamente, va dal collettore all'emettitore. Va bene? Ok. Allora, pensate a come abbiamo introdotto il transistore bipolare. Abbiamo detto, guardate, il transistore bipolare funziona come un generatore di corrente controllato da corrente. In particolare la corrente tra due elettrodi viene controllata dalla corrente iniettata nell'elettrodo di controllo. Ancora questo non abbiamo completamente spiegato. Che cosa abbiamo? Abbiamo i due elettrodi tra cui scorre corrente sono collettore e emettitore. Quindi c'è una corrente dal collettore all'emettitore, col segno in cui si prende la corrente, che viene controllata da un'altra corrente iniettata nella base. Ancora questo aspetto non l'abbiamo visto, ci vuole ancora un attimo. Che corrente passa nella base? Ora cerchiamo un attimo di vederlo. La base è una regione di tipo P, non abbiamo visto ancora che cosa succede alle lacune. Allora, io ve lo disegno sullo stesso grafico, le lacune le facciamo di blu di solito, quindi prendiamo il blu di nuovo. Le lacune si disegna meglio se faccio il grafico dell'energia potenziale per le lacune, però ora non voglio fare un disegno in più. Immaginate che è uguale a quella per gli elettroni solo che è capovolta, quindi dovete guardare la testa in giù. Che cosa succede? Io qui ho delle lacune che vedono verso il collettore è una barriera molto grande, verso l'emettitore è una barriera molto piccola e quindi le lacune diffondono nell'emettitore e vengono, e lì la giunzione PN è normale, quindi diffondono nell'emettitore, a un certo punto poi ricombinano con gli elettroni che sono nell'emettitore e spariscono. Dal punto di vista delle lacune ho una corrente tutto sommato normale. In aggiunta a questo ho altri flussi di carica, quindi il primo mi mettono in ordine di importanza. Il primo e il più importante è quello che ho segnato per primo, quello degli elettroni dall'emettitore al collettore, poi c'è il secondo che è quello delle lacune dalla base all'emettitore, poi ce ne sono altri due molto ridotti. Uno è questo, chiaramente ci sono degli elettroni nativi nella base che sono minoritari perché la base è adrogata a B, quindi avrà degli elettroni pochi che sono rimasti nella base, vi ricordate, concentrazioni molto molto piccole e questi vengono attirati dal campo e spinti verso il collettore. Sono quegli elettroni che tipicamente danno luogo a quella corrente di saturazione inversa che abbiamo spesso nominato. Non solo, poi in misura sempre piccola ci sono un po' di lacune che sono qui nell'emettitore, anche esse sono molto poche e che di nuovo dal campo vengono tirate verso la base. Anche queste ci sono. Chiaramente questi due contributi sono contributi molto piccoli. Se dovessi andare a fare il rapporto, vi direi questo, il primo contributo è più grande di tutti, due ordini di grandezza sta il secondo, due ordini di grandezza almeno, quindi un fattore 100 più piccolo è il secondo e un fattore 7, 8 ordini di grandezza stanno gli altri due. Quindi a livello di importanza sono molto diversi e a seconda del ragionamento che faccio posso trascurarli oppure no. Ora vi ho fatti vedere tutti un po' per completezza. Va bene? E' importante però che li abbiate presenti tutti, perché cosa succede? Chiaramente quei flussi molto piccoli, come abbiamo visto per i Diodi, è esattamente lo stesso ragionamento. Quei flussi molto piccoli sono completamente trascurabili quando quelli grandi ci sono, quando il primo c'è tutto il resto è trascurabile, però nel caso in cui il primo non ci sia, quelli piccoli iniziano a vedersi, d'accordo? Iniziano a vedersi, esattamente come se si vedono le stelle in cielo quando il sole non c'è, no? E' esattamente la stessa cosa. Quindi sono cose importanti da tenere presente. Sì, prego. Le lacune e le lacune? Nella base. Quanto nella base? Le lacune, perché la base è drogate tipo P, quindi ha delle lacune native, no? Che sono lì per il drogaggio. E gli elettroni dove si trova? Tanti quelli, tanti portatori minoritari che ho... Quelli che ho segnato in basso? Sì. Questi due contributi in basso sono sia, sono gli elettroni minoritari nella base e le lacune minoritarie nel collettore. Per quello ho detto molto piccoli, sono termini piccoli dovuti a portatori minoritari. Vi ricordate, abbiamo fatto un esempio un sacco di volte, se una regione è drogata a 10 alla 18 nel silicio, i portatori maggioritari hanno una concentrazione di 10 alla 18, quelli minoritari di 10 alla 2. Ok? Quindi 16 di grandezza sotto. Stiamo parlando di concentrazioni molto molto più piccole. Ora tipicamente una base di questo tipo può essere drogata a 10 alla 16, 10 alla 17, quindi i portatori minoritari sono un po' di più, se 10 alla 3, 10 alla 4, sono comunque concentrazioni molto piccole rispetto al resto. Però la cosa importante è che è utile sapere che ci sono perché quando i flussi principali spariscono, quegli altri iniziano ad essere rilevanti. Allora, ricapitoliamo questo punto, flussi di carica. Prendiamo sempre NPN. Allora, il primo flusso, il più importante è quello degli elettroni che dall'emettitore diffondo nella base. Poi cosa succede? Qualcuno di questi ricombina nella base perché chiaramente trovano un sacco di lacune nella base e poi il grosso però viene raccolto dal collettore. Bene? Questo è il flusso principale. Fatemi tracciare la posizione delle giunzioni. poi abbiamo il secondo flusso, in ordine di importanza e quantitativa, sono il flusso delle lacune che va dalla base all'emettitore. Da chi vengono fornite queste lacune? Beh, è chiaro il discorso. Queste sono presenti dall'inizio nella base perché la base è drogata, poi quando le lacune se ne vanno attraverso la giunzione vengono rimpiazzate dal contatto elettrico, dal generatore che abbiamo messo. Il generatore è in contatto elettrico e rifornisce di cariche la regione. Quindi questo è il secondo flusso di importanza e poi abbiamo due flussini molto piccoli che sono le lacune che dal collettore vanno alla base, attirate dal campo e gli elettroni che erano qui minoritari e che vanno nel collettore. Ok, giusto per ricapitolare. Il totale. Quindi vedete, dal punto di vista dell'emettitore i flussi sono chiari, sono gli elettroni che vanno verso la base e le lacune che dalla base vengono nell'emettitore. Questi sono i due tipi di flussi che vede l'emettitore, quindi la corrente dell'emettitore è fatta da quella somma. La corrente e la base è un pochino più complicata perché nella corrente e la base ci sono quattro tipi di flussi differenti. Il primo, il più importante, guardando solo la base, parlo di flusso netto, cioè la corrente viene raccolta dal contatto, dall'elettrodo di base. Il primo flusso sono le lacune che vanno dalla base all'emettitore. Poi ci sono gli elettroni che ricombinano. Questi sono elettroni che ricombinano nella base. Questi sono importanti perché quando un elettrone ricombina la base, ricombina con una lacuna, quindi sparisce una lacuna nella base e deve essere impiazzata dal generatore. E poi ci sono questi portatori minoritari a contatto base collettore. Questa praticamente è una corrente di saturazione inversa della giunzione base collettore. Quindi questo ve lo scrivo perché magari questa è una corrente di saturazione inversa della giunzione base collettore. Questo è il flusso di carica nei BJT, bene specificare quando è polarizzato in zona attiva diretta. Ok? Questo non l'ho scritto ma ho fatto riferimento alla figura precedente in zona attiva diretta. Va bene? Quindi è una situazione particolare con i segni delle tensioni base emettitore e base collettore che vi ho indicato precedentemente. va bene. Allora, quindi per il momento abbiamo fatto un discorso qualitativo. Adesso cerchiamo di essere un po' più quantitativi vedendo un modello di descrizione del funzionamento del transistore bipolare molto semplice. Che cos'è un modello? Sapete, un modello in generale è un... quando parliamo di modello, in questo contesto ci riferiamo a un modello matematico di un sistema. Che cos'è? È un sistema di equazioni che descrive il funzionamento del sistema. Il modello matematico per definizione è soltanto questo. Vedremo un modello più semplice per un transistore bipolare che in realtà è stato proposto due o tre anni dopo l'invenzione del transistore ed è comunque molto efficace dal punto di vista didattico e anche in pratica utilizzato anche ora soprattutto perché è molto semplice. Non è accuratissimo ma è molto semplice ed è il modello di Ebers e Moll. Ebers e Moll erano entrambi Ebers in quel periodo, in cui fu inventato il transistore, proposero questo tipo di modello. In pratica ve lo descrivo un pezzettino alla volta. Allora il modello si basa su questo ragionamento. Dice, va bene, com'è fatto sto transistore bipolare? Tengo presente quali sono i pezzi importanti e dico, beh, il primo pezzo è che c'è un'aggiunzione tra base e emettitore, un'aggiunzione PN. Va bene? Quindi c'è un diodo tra base e emettitore, chiamiamolo IED, la corrente che impassa in questo diodo, che sarà funzione della tensione ai capi del diodo, cioè della tensione tra base ed emettitore. D'accordo? Poi cosa dice il modello? Poi io cosa devo tenere presente? Devo tenere presente il discorso che ho fatto prima della base corta. Quindi gli elettroni che vengono iniettati dall'emettitore non ricombinano tutti in base, ma la gran parte di essi viene raccolta dal collettore. Allora, come faccio a tenere conto di questo effetto? Per tenere conto di questo effetto metto qua, tra base collettore, un generatore di corrente comandato dalla corrente nel diodo di emettitore. Questo lo chiamo αF IED, dove αF è una quantità compresa tra 0 e 1. E questo mi serve a dire che una frazione, appunto, αF è compreso tra 0 e 1, della corrente IED, va a finire fino al collettore. Chiaro? Va bene. Poi come si completa il modello di Bersemol? Si completa così e si dice, beh, anche tra base e collettore c'è una giunzione e quindi rappresento il diodo, questo si chiama diodo di emettitore, il diodo tra base e collettore. La corrente nel diodo di collettore lo chiamo AICD. Vedete, per esempio, in zona attiva diretta il diodo di collettore è polarizzato in zona inversa e quindi passa nel diodo di collettore solo la corrente di saturazione inversa, quella quantità piccola che vi ho fatto vedere prima. Però il principio c'è, potrebbe essere polarizzato diversamente. Allora, analogamente a quello che avviene per l'altra giunzione, siccome il dispositivo è completamente simmetrico, dico, va bene, se io avessi base e collettore polarizzata direttamente avrei che una parte della corrente tra base e collettore finirebbe nell'emettitore, esattamente nello stesso modo. Quindi qua io che cosa dico? Dico, se avessi iniezione dal collettore, perché magari l'aggiunzione base e collettore è polarizzata direttamente verso la base, gli elettroni poi finirebbero in gran parte nell'emettitore. Quindi anche qui io metto un generatore di corrente controllato, stavolta dalla corrente nel diodo di collettore. Questo qui lo chiamo alfa r i cd, dove alfa r è di nuovo compreso tra 0 e 1. Ecco, questo è il modello di Aversenmol, tutto qua. Quindi il modello di Aversenmol mi dice, guarda, ok, è vero che il bipolare non è esattamente uguale a due giunzioni Pn, però di quell'effetto dovuto alla base corta, tu ne puoi tener conto, tu puoi tener conto semplicemente introducendo due generatori di corrente controllati da corrente, che ti fanno vedere che gran parte della corrente tra base e emettitore finisce nel collettore e gran parte della corrente tra base e collettore finisce nell'emettitore. Ok? Quindi questo è il circuito. I e D chiaramente dipende da VBE, è un diodo, quindi I e D sarà uguale a I e S, dove I e S è la corrente di saturazione inversa del diodo di collettore per E alla VBE diviso VT meno 1. Vedete, questa è la caratteristica di un diodo con fattori di idealità uguale a 1. Questo nella pratica è realistico perché sono molto buone le giunzioni dei transistori, nella pratica hanno un eta, un fattore di idealità praticamente uguale a 1. Per il diodo di collettore vale lo stesso discorso, questo posso scriverlo come VBC diviso VT meno 1. Allora, le correnti di emettitore, base e collettore le chiamo IABAC, per comodità e per convenzione le indico tutte con verso entrante nel dispositivo e chiaramente questo che ho disegnato è un modello circuitale, cioè la rappresentazione circuitale del modello di Ebersenmol, come vi ho detto tante volte, un circuito equivalente è semplicemente un'equazione rappresentata graficamente, io posso scrivere l'equazione corrispondente a questo modello, che è abbastanza semplice perché che cosa mi dice? Mi dice, guardate, scritta come equazione, io cosa devo fare? Scrivere l'equazione a questo nodo, se scrivo l'equazione di Kirchhoff delle correnti al nodo di emettitore, vedete, trovo che IE è uguale a meno IED più alfa RICD e dall'altra parte IC è uguale a alfa FIED meno ICD. La corrente di base, vedete, se io guardo l'insieme di taglio rappresentato da tutto il dispositivo, è chiaro che la somma delle correnti dei tre terminali, IB più IC deve fare 0, quindi avrò anche questo termine, IE più IB più IC uguale a 0. Quindi questo sistema di tre equazioni è equivalente, e anche le due caratteristiche, è equivalente matematicamente al circuito che ho rappresentato. Allora, quanti sono i modelli del, scusate, quanti sono i parametri del modello di Ebers & Mol? E guardiamolo un pochino, in pratica gli unici parametri, cioè quando dico parametri intendo dire che non siano costanti universali, sono alfa F, vedete, alfa R, IES e ICS. Poi VT è una funzione solo della temperatura, quindi diciamo non dipende dal modello, ho quattro parametri, d'accordo? È un modello a quattro parametri, di cui però solo tre sono indipendenti. Devo spiegarvi quest'altro punto, perché solo tre sono indipendenti? Perché se si vanno a vedere tutte le condizioni di funzionamento del transistore, si vede che non possono essere tutti e quattro indipendenti i parametri. Per quale motivo? Perché, per esempio, se metto emettitore e collettore alla stessa tensione, quindi alla stessa tensione, la base ha una tensione diversa, io voglio, fisicamente mi aspetto che la corrente vada dalla base, la corrente dalla base all'emettitore sia solo quella del dio di emettitore e la corrente tra base e collettore sia solo quella del dio di collettore. Non mi aspetto che ci siano realisticamente degli scambi tra due terminali. Ripeto ancora una volta, se metto emettitore e collettore alla stessa tensione, non ci deve essere scambio tra i due terminali in termini di corrente, quindi il transistore si deve comportare a quel punto come i due diodi in parallelo, perché ho messo i due diodi in parallelo. Questa condizione la devo recuperare. Si vede che se impongo questa condizione ottengo una relazione tra quei parametri. Allora, la condizione si chiama condizione di reciprocità, quindi com'è che si dice? Se VCE è uguale a zero, quindi collettore e l'emettitore sono alla stessa tensione, vuol dire cioè che VBE è uguale a VBC, allora il transistore si deve comportare come due diodi in parallelo. giusto? Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che IB deve essere uguale, se i due diodi sono in parallelo, la corrente di base, che è la corrente che scorre nei due diodi in parallelo, deve essere uguale alla somma delle correnti nei due diodi. questa è la condizione che deve essere soddisfatta. Se voi guardate il circuito precedente, se IB è uguale a IED più ICD, vuol dire questo che alfa RICD deve essere uguale ad alfa FIED, ma se vi rifacciamo questa cosa, quindi questo vuol dire che alfa FIED deve essere uguale ad alfa RICD. E allora sostituendo alfa FIED, posso scrivere IED per E alla VBE diviso VT meno 1. E poi è uguale ad alfa FIED uguale ad alfa RICS che moltiplica E alla VBC fratto VT meno 1. se però se però VBE e VBC sono uguale, allora questo termine e questo termine si semplificano e rimane alfa FIED uguale ad alfa RICS. D'accordo? Questa qui è la condizione di reciprocità. Vedete, questa condizione mi dice che quei quattro parametri non sono tutti indipendenti, ma sono dipendenti da loro, quindi posso scegliere tre in modo completamente arbitrario e il quarto invece viene dipendente dagli altri tre, fissato in modo univoco da questa relazione. Va bene. Allora, giusto? Un'altra cosa è utile vedere. Qual è il significato di questi parametri? perché IES e ICS sono chiari, sono due correnti di saturazione inversa dei due diodi, quindi sono chiari nel senso che hanno un significato evidente che si può mettere relazione direttamente alla giunzione. Qual è il significato di quell'alfa F e di quell'alfa R? Proviamo a vederlo in dettaglio e si capisce bene se ci si mette in una condizione di lavoro particolare. Primo caso, poniamo VBC uguale a zero, cioè base e collettore esattamente alla stessa tensione. tenete presente che la prima conseguenza se VBC è uguale a zero è che se scrivete la caratteristica del diodo di collettore l'esponenziale viene uno e quindi il termine esponenziale meno uno fa zero e quindi viene la corrente di collettore e la corrente del diodo di collettore è zero quindi VBC uguale a zero implica subito che ICD sia uguale a zero Allora, vediamo il modello di Aversemol come funziona quindi quindi io qui ho la base, l'emettitore e il collettore ho il diodo di emettitore tra base e emettitore poi qui c'è la corrente quindi questa è IED e qui c'è alfa FIED qui c'è ICD e qui c'è il generatore di corrente alfa RICD quindi che cosa succede quando ICD è uguale a zero? Praticamente qui non passa corrente va bene perché ICD è uguale a ICS che moltiplica E alla VBC fratto VT meno uno e quindi in questo caso fa zero va bene e di conseguenza anche alfa RICD è zero quindi in pratica che cosa abbiamo è facile adesso scrivere la corrente di emettitore e la corrente di collettore perché qui vedete la corrente di emettitore è uguale solo a IED col segno meno quindi abbiamo che IE è uguale a meno IED e per la corrente di collettore la corrente di collettore in questo caso è uguale solo ad alfa FIED quindi la corrente di collettore è uguale ad alfa FIED quindi vedete adesso si capisce qual è il significato di alfa F alfa F non è nient'altro che il modulo del rapporto tra IC e IE quindi alfa FIED è uguale a il modulo del rapporto tra IC e IE in che condizione? e qui me la devo ricordare quando VBC è uguale a zero d'accordo? questa se volete diventa proprio una definizione di alfa F è il modo in cui si può misurare alfa F quindi per misurare alfa F che cosa devo fare? devo prendere il transistore mettere VBC uguale a zero e andare a misurare IC e IE e farne il rapporto questo spiega anche qual è il nome di alfa F alfa F si chiama guadagno di corrente anzi l'aggettivo è guadagno diretto di corrente di cortocircuito si chiama di cortocircuito perché VBC è uguale a zero cioè base e collettore sono in cortocircuito è un guadagno di corrente perché è un rapporto tra due correnti una corrente che chiamo di ingresso che è quella di mettitore e quella di uscita è quella di collettore quindi è un rapporto tra corrente in uscita e corrente in ingresso si chiama diretto perché come dire stiamo parlando di un transistore in zona attiva diretta tipicamente questa si misura quando si mette la tensione base emettitore positiva e si calcola si misura quindi la corrente di emettitore e la corrente collettore quindi è il guadagno che conta quando il transistore è in zona attiva diretta va bene quindi alfa F è il guadagno diretto di corrente di cortocircuito tenete presente nella pratica si cerca di fare in modo che questo alfa F sia molto vicino a 1 sia una cosa tipo 099 0995 poi dipende dalla situazione cosa vuol dire? si vuol fare in modo che tutta la corrente tra base e emettitore può venire raccolta al collettore ok per completezza in inglese il guadagno diretto di corrente di cortocircuito si chiama forward short circuit current gain ed è letterale il signore short circuit è col trattino quindi forward sta per diretto forward va a dire in avanti quindi nella direzione di marcia ok conduzione diretta ed è il motivo per cui c'è F come pedisce questo F sta per forward short circuit è il cortocircuito current gain e il guadagno di corrente va bene per simmetria possiamo fare anche la situazione opposta se poniamo VB è uguale a 0 vado veloce tanto non c'è bisogno di fare tutti i conti per simmetria sapete che cosa succede se VB è uguale a 0 avremo stavolta che la corrente nel diodo di emettitore è uguale a 0 e quindi avrò che la IC non è nient'altro che meno ICD e la IE sarà invece alfa R per ICD quindi quindi se vado a fare il vado a vedere la definizione di alfa R si capisce bene alfa R è il rapporto tra quelle due correnti quindi è il modulo di IE su IC quando VB è uguale a 0 sotto quella condizione va bene questo diciamo analogamente si chiama guadagno inverso di corrente di cortocircuito quindi è un nome uguale a quello visto precedentemente stavolta non è diretto ma è inverso per differenziare il modo di funzionamento da quello precedente quindi tipicamente se l'aggiunzione base collettori viene polarizzata direttamente si dice che la polarizzazione del transistore è inversa poi su questo aspetto della numeronclatura torniamo in inglese la situazione è simile in inglese si chiama reverse short circuit current gain e la R del pedice è esattamente la R di reverse in inglese in inglese non vale Grazie a tutti.